Focus sul piano industriale dell'Ilva, oggi a Palazzo Chigi, mentre si attende alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del piano ambientale, dopo il via libera della Corte dei Conti, il commissario del siderurgico Enrico Bondi con il subcommissario Adoronchi sono attesi nel pomeriggio dal governo. Ieri intanto nuova intesa sul lavoro fra aziende e sindacati. Ormai solo un migliaio di dipendenti dell'Ilva di Taranto non è a rischio contratti di solidarietà avviati a marzo 2013 e quanto emerge dall'accordo fra una parte dei sindacati hanno firmato FIM, WILM e gli autonomi della FLMU, si sono riservati FIOM e USB e l'Ilva siglata ieri. L'accordo amplia da 9.000 a 10.240 la platea dei lavoratori potenzialmente coinvolti, mentre abbassa di 128 unità il tetto giornaliero raggiungibile dall'azienda. Attualmente circa 700 lavoratori a rotazione sono in solidarietà totale, 8 ore, mentre da ieri oltre 2.000 dipendenti sono in solidarietà di un'ora. Il turno di lavoro finisce alle 15 anziché alle 16, mantenendo la pausa pranzo, anche se la platea potenziale è quasi il doppio. Sono circa 200 invece i lavoratori individuati grazie all'anzianità di servizio per una possibile mobilità volontaria, che l'azienda potrebbe favorire con un bonus economico in busta paga. Oggi intanto a Palazzo Chigi l'attenzione sarà focalizzata su circa 4 miliardi di euro che servono per finanziare nell'arco di 3-5 anni sia gli interventi ambientali sia quelli tecnologici e per la sicurezza. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Bondi deve rendere noto il business plan e sciogliere il nodo delle risorse. Secondo indiscrezioni, 1,8 miliardi dovrebbero servire per i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, un miliardo e mezzo per adeguamento degli impianti, innovazione e manutenzione, 700 milioni per interventi di sicurezza. Come primo passo Bondi dovrà chiedere un aumento di capitale alla famiglia Riva, che il 30 aprile scorso ha perso il capostipite Emilio, morto all'età di 87 anni, in caso di indisponibilità, come sembra probabile, ad altri investitori finanziari o industriali. Bondi sarebbe comunque intenzionato a chiedere alla magistratura lo sblocco di 1,9 miliardi sequestrati ai Riva per reati non ambientali. Il commissario ha già incontrato i vertici delle principali banche, intesa San Paolo, Unicredit e Banco Popolare, che prima di procedere con un prestito, sembra per un terzo del totale, attendono però di conoscere i dettagli del piano industriale, le prospettive e le garanzie. Sul fronte industriale, sull'impianto siderurgico tarantino, il più grande d'Europa, sembrano essere puntati gli occhi del colosso mondiale dell'acciaio, ArcelorMittal.